Ciao a tutti amici di Youtube, sono in compagnia di... Pittolopan97 E Paolo il mitico Yeah E oggi volevo porre l'intervista a Pittolopan97 che ha accettato E boh, hai qualcosa da dire o iniziamo subito? Ma a mio non ho niente da dire, aspetta le tue domande Va bene, iniziamo subito, codunque È un cinese, cioè Da quanto tempo giochi a Yugi? Un mese Un mese Seriamente da un anno Seriamente da un anno Neanche, sei, hanno cinque, sei mesi Quanti mazzi giochi? Mazzi... Tre Elencaceli? Agent Rabbit E Samurai Qual è il tuo preferito? Rabbit Fammi la top 4 dei mazzi più forti del momento Agile Windup Mermail E Rabbit Come è Entraps? Preferisci Max C oppure Weiler? Dipende Nel rabbit preferisco giocare Weiler Qual è il mazzo che stai giocando più adesso? Eh? Qual è il mazzo che stai giocando più attualmente? Di più è l'agent E cosa giocheresti? Max C o Weiler? Max C perché nell'agent si giocano anche a Razzi Ok Poi Qual è secondo te il deck più forte del momento? Il deck più forte? Sì Ma secondo me è sempre Windup 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 Eh? Qual è stato il tuo primo box? Luce della distruzione Quello che hai in casa è Geragli Beh la zia la faceva ridere Eh? Tu spendi molto in questo gioco? E ne ricavi? Sì Ricavo di più Cioè spendi e ne ricavi di più? Sì Eh perfetto Eh la vita Facci un saluto Ciao ragazzi Bella Iscrivetevi al Iscrivetevi al canale di Pitropan97 Paolo hai un canale su Youtube? Olo il mitico Iscrivetevi anche a Paolo il mitico Poi a Protocarts FDF 69 E Protocarts E l'ho già detto E scusate Jace Beller E bo Qua sarà l'intervista Saluti da beh Eh la vita lo faccio Vado a te E da poi Ok Ciao ragazzi Al prossimo video